buonasera mister un'altra vittoria al termine quasi al termine di questa grande stagione si aspettava di inizio anno una stagione così beh allora intanto buonasera a voi beh sì sicuramente avevamo improntato un discorso per fare una cosa storica perché la dedico appio insomma non aveva mai raggiunto i fasi finali noi abbiamo improntato una una squadra importante con lo sforzo della società e quindi volevamo andare a vincere quasi tutto quello che c'era da vincere ma quantomeno provarci invece ora torniamo al campo oggi un inizio un po a rilento siete andati anche sotto poi cosa ha detto ai suoi per cercare di rimetterli in carreggiata ma no diciamo queste sono partite comunque una semifinale che la motivazione c'era di avere e quindi ho voluto dare spazio anche nelle convocazioni a persone che sono impegnate tutto l'anno che purtroppo per le rotazioni non ho mai potuto farli giocare ho dato spazio oggi e quindi sono contento della prova i ragazzi hanno saputo reagire nonostante siamo andati sotto loro ho complimenti a loro che sono un'ottima squadra ora l'ultima domanda cosa si aspetta invece dai prossimi avversari che posta in finale non so se li ha visti giocare allora si partita si aspetta soprattutto quella sicuramente una partita difficilissima anche perché una finale quindi le finali sono sempre difficili però come dico loro sono molto forti ho avuto modo di vederle due partite prima di questa che giocavano sempre prima di noi quindi un po diciamo un occhio miei amici andato alcuni giocatori li conosco hanno dei giocatori fenomenali però diciamo come dico sempre ai miei ragazzi loro sono fortissimi stanno in finale se anche noi ci siamo vuol dire che anche noi possiamo dire la nostra un grazie al mister del la più è un in bocca al lupo per questa finale di venerdì grazie mille